eccoci qua ad outdoor 2019 stan ferrino presentiamo il restyling del zaino zephyr uno dei nostri best seller nel segmento attivo uno zaino che è disponibile in tre litraggi 12 più 13 17 più 3 e 22 più 3 ideale per le giornate di hiking di mountain biking attività in montagna abbiamo fatto un restyling del dorso inserendo questa spugna termoformata in color a contrasto con lo zaino lavorando sia su fascia vita che sugli spallacci rendendoli molto più leggeri e traspiranti frontalmente il design è rimasto molto simile a quello precedente con dei piccoli accorgimenti tecnici abbiamo inserito questi due questi due look qua per portare il casco tutti i portabastoncini hanno la possibilità di essere ritirati in queste micro taschine per rendere lo zaino con un design più pulito e lineare due tasche in rete laterali una due tasche frontali e la tasca per l'accesso al corpo principale dello zaino e ultimo ma non ultimo il la possibilità di ampliare di tre litri lo zaino ciao a tutti siamo a frederick saphen lo stan ferrino a presentare il nuovo xrash vest il nuovo vest inserito in collezione un vest disponibile in tre taglie sml la taglia m media quella che abbiamo qua pesa soltanto 280 grammi a due grosse tasche in mesh sul dorso una un compartimento centrale frontalmente abbiamo due taschini di cui un in mesh e uno in tessuto due grosse tasche sulla fascia vita a questo nuovo aggancio molto rapido gli spallacci molto traspiranti leggero abbiamo puntato sulla leggerezza due portabastoncini